direi grossissimo vantaggio dunque le nomination per varietà e spettacoli musicali sono buona domenica canale 5 scherzi a parte canale 5 scommettiamo che Rai 1 vogliamo vedere il premio a chi va? buona domenica e allora ritirano Lorella Cuccarini, Marco Columbro i 3-3 Sandra Mondaini e Tony Binarelli buona sera signori buona sera ciao 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 vieni Sandra anche in ritardo ecco senti è il tuo erede siccome io non c'era